Buonasera, tatticamente questo match contro Napoli e il match di Napoli di Ancelotti era la vostra sfida più grande da un punto di vista tecnico, era un match difficile da preparare, da gestire? No, perché per me era chiaro davvero che ci sarebbe stato questo 4-4-2, un 4-4-2 quasi perfetto. Per me, per noi, ovviamente ho l'impressione che sia un po' difficile giocare con un piano, diciamo, prevedere un piano e restare fedeli a questo piano per 45 minuti. Non so perché, ma è difficile per noi di attenerci a questo piano, con questa struttura. Lo facciamo per 15 minuti e poi la perdiamo, ma non so perché. E poi il secondo tempo cambiamo piano e va un po' meglio. Ma dobbiamo restare al top, non possiamo perdere strutture, non possiamo perdere palle facili. Dobbiamo giocare in un modo affidabile e per questo dobbiamo davvero migliorare a livello tattico, ma anche a livello psicologico, di testa. Dobbiamo rispettare l'importanza del possesso palla, della posizione, della struttura. Quando giochiamo contro la palla, con la palla, per noi è una vera e propria sfida. Buonasera. Thomas Meunier, all'uscita del campo, diceva che oltre alla tattica, il comportamento dei giocatori nel primo tempo forse non era quello giusto, forse mancava un po' di impegno. Come li avete trovati voi, i giocatori? Ne siete soddisfatto o siete stato deluso del comportamento dei giocatori? Oggi, sì, allora diciamo l'attitudine e il comportamento di oggi, nel primo tempo, sì, credo che lui sa, e lo abbiamo detto durante l'intervallo, che abbiamo completamente perso la nostra struttura, che abbiamo, non abbiamo giocato insieme per mezz'ora e credo che, forse voleva dire questo quando parlava di attitudine e di comportamento, ho detto già che per noi è difficile rispettare il nostro gioco, il nostro piano di gioco, la nostra struttura, modo di giocare affidabile per tutto un tempo, forse voleva dire questo, penso di sì, perché l'attitudine e il comportamento nel primo tempo, abbiamo comunque fatto un gol, abbiamo creato molte occasioni, abbiamo fatto pressione, c'è stato anche molto contropressing, è la stessa squadra, poi con Napoli è stata difficile, poi un altro gol, poi un'altra reazione, quindi abbiamo, a mio avviso, reagito bene, abbiamo avuto il comportamento giusto. In vista del ritorno, avete due grandi partite di campionato, Marseille e Lille, forse è un'ottima preparazione questa, sì, forse sono le partite che hanno lo stesso livello contro Marseille e contro Lille, molto difficili, per noi va bene così, va molto bene, perché possiamo migliorare e non è possibile fare errori in questo tipo di match, perché gli avversari sono molto forti, quindi credo che sia un bene avere avversari forti per essere pronti, ora facciamo passo dopo passo, il prossimo match contro il Marseille sarà quello più difficile. Ultima domanda, come spiega la mancanza di aggressività della squadra stasera? Abbiamo avuto l'impressione che la squadra era tagliata in due in mezzo al campo, troppi palloni persi, se dovesse dare un voto, quanti punti le darebbe alla squadra? Posso capire perché hai questa impressione, perché il suo collega mi ha fatto la stessa domanda? Manchiamo di intensità, ma non è così, quello che ci manca è una struttura compatta, perché se non si gioca in modo compatto non si può giocare neanche con intensità e sono due cose diverse. Non si possono mischiare queste due cose, non è la stessa cosa. Abbiamo iniziato con un'intensità buona per 15 minuti, poi abbiamo perso la struttura ed è per questo che è molto importante chiudere gli spazi quando giochiamo con la palla o contro la palla. Questa è la nostra sfida, è la sfida che ci aspetta di migliorare sempre su questo punto, perché al secondo tempo abbiamo avuto l'intensità perché giocavamo insieme nel campo avversario, insieme con dei passaggi semplici, facili per fare pressione e così è più facile fare contro pressing con intensità. Ma non è perché i giocatori non sono pronti o perché vogliono giocare solo al 70% dell'intensità, ma capisco perché senti, perché percepisci questa cosa, ma non è così, è la struttura che ci manca. Ed è per questo che ne deriva questa percezione. Grazie. Grazie.